Ciao a tutti, sono qui oggi per presentarvi questa collana di libri che si chiama I mutanti della Lapis Edizioni e ho deciso di fare questo video perché mi sono resa conto ultimamente che c'erano molti genitori nella mia stessa situazione, cioè genitori alla ricerca di libri con finestrelle adatti a bambini piccoli che non sono pronti per le finestrelle. Mia figlia è nella stessa situazione, nel senso che ha dieci mesi e ha scoperto i libri con le finestrelle, ma più che aprire e chiudere le finestrelle le strappa e quindi cercavo qualcosa che fosse sia una finestrella ma molto resistente e quindi spulciando gli scaffali della biblioteca ho trovato questi. Noi abbiamo Trasforma Pappa e Trasforma Musica, ma ce ne sono molti altri, c'è Trasforma Attrezzi e altri titoli che adesso non ricordo, ma se andate appunto a cercare Lapis Edizioni, i mutanti li trovate tutti. Niente, mia figlia se ne è innamorata, nel senso che è molto semplice la grafica, disegni grandi, brillanti e hanno appunto questi disegni che si trasformano facendo il classico effetto cucù delle finestrelle, no? Quindi qui dice è una carota arancio fiammante? No, è una cicogna dal becco gigante! La cosa fantastica è che rispetto alle finestrelle dei libri classici si aprono tutti esattamente nello stesso modo, quindi i bambini piccoli non devono stare a capire da che parte tirare, se a destra, a sinistra, se in su o in giù, perché in tutte le pagine si ripete lo stesso movimento e in tutte le pagine trovano quell'effetto cucù che piace tanto ai ai piccolini. Sono resistentissimi perché se guardate lo spessore delle pagine è veramente difficile romperli e mia figlia si è appassionata soprattutto a questo qui della pappa, probabilmente perché ci sono disegnate cose che conosce, mentre quello della musica le piace comunque allo stesso modo, ma chiaramente fisarmonica, pianoforte dice vabbè lo sa cos'è anche la chitarra, però magari la bala laica fa un po' più fatica a identificarla. In ogni caso si diverte un mondo. Quindi per tutti quelli che sono alla ricerca di un libro con delle simil finestrelle super resistenti ve li consiglio. Ciao!